A Genova dicono emosadeto, abbiamo già dato, la minestra riscaldata non funziona mai. In un anno di governo abbiamo fatto cose di cui sono orgoglioso, quota 100, la legge sulla legittima difesa che eviterà problemi spese e carcere a tanti lavoratori che si sono difesi. Sì, sull'immigrazione io ricordo che siamo a gennaio, stasera gli sbarchi rispetto a gennaio dell'anno scorso sono aumentati del 600% e se va avanti così è un disastro, 600%, non so se si capisce. E' chiaro che i 5 Stelle, l'hanno detto i calabresi e gli emiliani e i romagnoli, i 5 Stelle hanno tradito, sono nati per mandare a casa la casta, i poteri forti, i poteri legati alle banche e alla finanza che significa PD e Grillo li ha fatti alleare col PD, cosa fanno gli elettori in Calabria e in Emilia Romagna? Scappano. O quelli che vogliono votare a sinistra votano direttamente a sinistra, quindi se ci sarà un sussulto di dignità da parte di qualcuno che vuole salvare l'anima rimasta dei 5 Stelle dovrebbero staccare la spina e presentarsi agli elettori come forza veramente alternativa. Se invece Grillo e Conte preferiscono il partitino del 3% alleato al PD per garantire le poltrone a 20 persone, peccato perché è un...